La meritocrazia tornerà di moda. Con questo obiettivo il Movimento 5 Stelle di Teramo ha deciso di pubblicare un bando per la selezione di Assessori 5 Stelle. Il Movimento infatti si presenterà alle future elezioni come forza di governo e in tempi non sospetti ha deciso di selezionare attraverso i curricula gli aspiranti Assessori scelti tra persone competenti e indipendenti. Le persone sotto elezioni tendono ad assaltare la diligenza e a salire sul carro del vincitore. Noi oggi vogliamo cercare persone oneste, preparate, trasparenti che non vogliono solo una poltrona ma che vogliono solo lavorare per la collettività e farlo in maniera seria e corretta. Il bando è rivolto a tutti i cittadini, preferibilmente residenti nel Comune di Teramo, che vogliono mettere a disposizione la propria professionalità per il Movimento 5 Stelle. Il termine di presentazione è di due mesi a partire da oggi. Verrà richiesto alle persone di mandare il proprio curriculum insieme a una lettera di presentazione proprio per prendere parte e per poter essere candidato a prossimo Assessore della futura Giunta 5 Stelle. Questa è una mossa innovativa che non è mai stata fatta a Teramo, proprio per sottolineare la differenza con i vecchi partiti, i quali scelgono gli Assessori solo in base a poltrone, voti e amicizie. Questo è un metodo innovativo che contraddistingue il Movimento 5 Stelle secondo il principio della meritocrazia che vogliamo erigere a punto fondamentale dell'amministrazione terramana. Non possiamo ovviamente candidare persone con carichi pendenti e soprattutto che non siano attualmente iscritti a partiti politici. Questi sono i requisiti che chiediamo.